Il venerdì troveremo sicuramente una squadra agguerrita, una squadra di qualità immensa e che verrà a fare la loro miglior partita sicuramente. Siamo in una situazione in cui loro non possono sbagliare niente e quindi porteranno tutto quello che possono portare in un campo da rugby. Sappiamo benissimo chi sono i nostri avversari e quindi siamo consapevoli della sfida che ci aspetta. È la Coppa del Mondo, ci sono le squadre migliori del mondo ed è bello che sia così, è bello preparare queste partite e lo stiamo facendo nel modo giusto. Sicuramente dobbiamo stare attenti alla disciplina, ai momenti soft che abbiamo avuto magari nelle ultime partite, per esempio anche con l'Uruguay abbiamo iniziato bene i primi 10-15 minuti e poi invece quando le cose non sono riuscite perfettamente siamo caduti un po' in qualche fallo troppo facile concesso e questo ci ha messo in difficoltà e ci ha portato i cartellini gialli. Questi sono sicuramente momenti che con una squadra come gli All Blacks non possiamo concederci, dobbiamo pensare a ogni momento della partita al nostro lavoro, sicuramente la partita perfetta non esiste, però esiste una giusta reazione a quello che non va e dovremo essere bravi a trovare le soluzioni quando magari qualcosa potrà non andare come vogliamo. È una partita di rugby, succede sempre, ma penso che la vera qualità di una squadra venga fuori quando le cose non sono sempre perfette. Il secondo tempo è stato sicuramente uno specchio delle nostre qualità e quindi è bello pensare a noi come a quella squadra lì, come tutte le squadre però che ci siano momenti alto e basso penso che quando mostriamo le nostre qualità si vede quanto bene possiamo giocare a rugby e questo è importante, quindi sicuramente quella è una delle nostre migliori versioni dell'ultimo periodo ed è importante trovare quella versione lì anche nelle prossime partite. Sicuramente ci esprimiamo al meglio quando magari abbiamo palla in mano, quando riusciamo ad avere la palla per tante fasi, a creare palla veloce e nel secondo tempo con l'Uriguay siamo riusciti a farlo molto bene e questo dovremo portarlo anche venerdì prossimo contro una squadra che ci metterà sotto grandissima pressione nei punti d'incontro, però dovremo riuscire ad avere palloni veloci di qualità e avere multifase anche contro di loro perché in quei momenti là che secondo me ci esprimiamo il meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.